Nuova lezione di Pilotsing, il secondo blocco, il secondo blocco di Box che si chiama Hook Criss Cross il secondo blocco di Pilates Standing, Pilates Arm Sequence e il secondo blocco di Danza che chiameremo Four Point allora, iniziamo, il riscaldamento lo potete fare uguale a quello della scorsa settimana quindi io non lo faccio rivedere ma voi lo dovrete fare sempre prima di iniziare la lezione di Pilotsing ok, quindi io già mi sono riscaldata, partirò direttamente dal secondo blocco di Box Hook Criss Cross, ok, le posizioni delle braccia sono sempre le stesse, ok, non qui, qui, ok ok, mi raccomando il gelato che non deve mai cadere, blocchiamo tutto in linea perché è tutto contratto guardate adesso bene le gambe, ok, pronti? Vai! molleggio con le gambe, ruoto e blocco tutta la gamba ok, contrazione dal gluteo fino alla caviglia allora, e, 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 1, 2, 3, 4, nel qual tempo le braccia sono ferme? 7, 8, aggiungo le braccia, 1, 2, e, 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 pak Le braccia tornano esattamente dove stavano. Vira lontano. Uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto, otto, sette, sei. Tempo. Anche nel tempo il braccio deve tornare esattamente dove stava. Mi raccomando, l'inclinazione del busto. Uno, otto, sette, sei, cinque, quattro, tre, due, uno. Adesso comincio a combinare. Hook, al crisscross, gamba. Hook, crisscross, hook. Hook, nel crisscross, mi raccomando, quando uso le gambe, le braccia non si muovono. Ancora. Ultimo. Solo gambe. Solo gambe. Vedete che le mie braccia non si muovono. Non faccio questo. Sono ferme. E. Single. E. Respiro. Vado. Siamo pronti? Per passare al secondo blocco. di Pilates. Che si chiama Pilates High Sequence. Ok. Siamo pronti? Ok. Una gamba, quella d'appoggio, rimane sempre piegata. L'altra è tesa. Piede. A punta giù, gamba desistica. E. Su. Porto su le braccia. Rimango in linea. Non perdo da nessuna parte. Mi raccomando. sigoli. Siamo pronti. Rimango dritta. Cinque. Sette. Sette. Fermi. La gamba, rimane sempre desa. L'altra piegata, sempre dritte. Apro. e tiro i gomiti a me sì, sì rimango dritta 5, 6, 7 8, 6, 7, 5 e le braccia seguono le gambe ho perso un po' l'equilibrio ma mi tengo 3, 3, 3 5, 7, 7 stop push in alto push, push, push push, push, push 1, spingo in alto spingo, spingo 5, 7, 7 8 e la gamba adesso adesso è tesa tesa, mi raccomando punta giù bene allontano allontano gomiti sempre verso i fianchi pronti e dietro 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 e 1 2 l'altra gamba d'appoggio bolleggia piccoli e provateci a fare l'angelo gamba tesa piede a punta e gamba 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 ancora e respiro scialgo vado a vedere quanti minuti ok vado a fare un video da 10 minuti così riesco a pubblicarlo senza problemi pronti? andiamo dall'altra parte 5 6 7 l'altra gamba e e e e mi raccomando punta dei piedi giù gamba tesissima quella che vavora quella che appoggio pigata e singoli respiro fermo la gamba su e cerco il mio equilibrio stamattina non ce l'ho tanto 5 6 7 e go e braccia si con una gamba fermi piccoli in su ti raccomando ancora non ve l'ho detto spalle lontane dall'orecchie fermi e push 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 mi avvicino mi avvicino push 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 e e e e e e e e e si vede la gamba piccoli 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 no non bisogna di un aiuto lo trovo ci trovo e poi lo trovo e e oggi ho problemi con la pianta del piede e ma comunque avete visto ho cercato l'aiuto del divano o del muro e ci ho provato e ho insistito e comunque l'ho fatto e sigla 5 6 7 8 continuo respiro ok adesso farò un altro video e 1 7 8 9 10 11